Rialzarsi all'imperativo della Virtus Francavilla contro il Latina, i Biancazzurri puntano a riprendere quei punti persi contro la Paganese che avrebbero proiettato Perez e compagni al secondo posto in classifica. E a proposito del Mesagnese, facile intuire un suo rientro dal primo minuto al centro dell'attacco considerando la squalifica di Patierno. Il capitano ha messo definitivamente alle spalle l'infortunio e tornerà a titolare nel 3-4-2-1 con Mastropietro e Maiorino alle sue spalle. A centrocampo prezioso impulso Franco per affiancare Toscano mentre Pierno tornerà a destra considerando il rientro dalla squalifica d'ingrosso a sinistra in difesa. Infine confermati Delvino e Gianfredo ai lati di Idda, un solo punto nelle ultime due partite e l'etichetta di presuntuosi da eliminare il prima possibile. La Virtus cerca gloria Latina per riprendere spedita la propria corsa.